Nicola Molteni, in merito al sovraffollamento delle carceri, il governo Letta cosa sta combinando ancora? Siamo di fronte all'ennesima follia, all'ennesimo tentativo di nascondere attraverso la riforma della carcerazione preventiva la volontà di svuotare le carceri, la volontà di approvare un altro nuovo, vergognoso, indecente indulto mascherato. La Lega è contraria, la Lega faremo battaglia, abbiamo fatto battaglia, siamo contrari a qualunque ipotesi di indulto, siamo contrari alle amnistie, non risolvono il problema del sovraffollamento delle carceri, creano insicurezza, sviliscono il principio della certezza della pena, annullano il lavoro delle forze dell'ordine. Questo è un governo che in sette mesi non ha risolto il problema dei disoccupati, dei lavoratori, non ha impedito alle nostre imprese di chiudere o di delocalizzare, ma si è occupato solo di carceri, approvando svuotacarceri e indulti mascherati. Se questo governo pensa di approvare in Parlamento un indulto o una nuova amnistia, la Lega è pronta alle barricate e pronta alle battaglie, tanto nell'aula parlamentare quanto nelle piazze. Siamo di fronte ad una follia senza precedenti e ancora una volta l'unica forza politica che si opporrà duramente sarà la Lega.